L'Industria di Meri è nata con un sogno, un sogno di un artista di riuscire a creare dei colori che fossero adatti per l'arte. La nostra azienda è nata in un indissolubile ligame tra l'arte e l'industria, che era incarnato da mio nonno. Io ho avuto alle spalle non soltanto un nonno, ma un padre che ha saputo dare continuità, un sogno e innovarlo all'insegna di valori che sono per me ormai acquisiti. Sono stato aiutato molto da mio figlio, è stato più bravo forse di me. Grazie a tutti.